yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con il primo episodio di podcard sarebbe un podcast dove io michele e francesco poi ci sarà anche la possibilità di avere degli ospiti dove parleremo nel pratico di quello che il gioco a 360 gradi oggi andremo a parlare di tre cose principali in prima di tutto spoiler l'ics in francia anche a breve la seconda cosa la variazione di prezzi delle carte dopo la banner list e di una possibile sbanno in futuro di max c partiamo adesso dall'argomento che secondo me è il più succoso l'ics in francia lo fanno a febbraio a lione il prego ma questo che l'ho annunciato nuovo si l'hanno annunciato dovrebbe essere dal 10 al 13 se non sbaglio per da queste per le pre iscrizioni c'è scritto qua si no dal 10 al 12 è quel fine settimana si diceva che a gennaio ci sarebbe dovuto essere il nostro forse però considerando l'annuncio di quello francese secondo me ci scavalcano e a noi di noi se ne riparlerà ad anno nuovo non so te sicuramente andrà a finire così tanto era già successo se non sbaglio anche nel 2017 con cosa mi ricordo che quando siamo andati noi all'ics di rimini era stata annunciata una data poi avevano messo prima un altro evento non mi ricordo dove e la nostra era stata slittata fino avanti ma a me sembra l'avessimo fatto sempre ad agosto o me sbaglio no no era settembre l'abbiamo fatto ah ok forse non era più gli ultimi d'agosto ma il primo è settembre ho capito quando mi ha preso male perché potevo morire in quel periodo lì ragazzi questa è un'altra storia allora dovevo avere teoricamente un tumore alla gamba spoiler non era così se dice se fosse una ciste però non è ancora non è ancora confermata come cosa nel dubbio sono passati anni sono ancora vivo però quindi vi dovete assorbire ancora un po di cappello di paglia su youtube infatti è tocca per forza comunque allora diciamo che capita anche bene perché non è diciamo san valentino e forse io ho finito la sessione se ne potrebbe parlare sulla possibilità di andare io non conosco il francese non conosco neanche l'inglese ne conosco poco ci si potrebbe provare poi c'è la tipa lì in in foto che è molto carina quindi nel senso anche incontrare lei è una bella trasferta adesso ripeto se questa macchina ti trovi tanto bene art machine ma guarda allora io ho sentito già ciungo ha detto che lui sacchetto forse volevano partire adesso andare su con sacchetto mi sembra un po eccessivo però nel senso ci si può aggregare detto questo io adesso passerei a car market per vedere un po quello che è successo perché ragazzi vi giuro durante questi giorni ho venduto di tutto e anche a pezzi forse troppo bassi qualcosa diciamo che potrei aver venduto dei macrocosmi e delle fissur da dasa tipo a 3 euro e adesso stanno a 10 è infatti adesso sono bello che curioso perché voglio vedere com'è cambiato dopo sta vanned ho visto che c'è stato il delirio letteralmente ti giuro io ho preso una scatola ho tirato fuori tutti i macrocosmi più brutti che avevo li ho caricati dai 2.50 ai 3 euro stanno andando a ruba ho fatto 20 euro di macrocosmi playhead che prima neanche a 20 centesimi li compravano ma è salito così tanto anche la comunanza playhead oh guarda è follia la gente non ha mai usato macrocosmi in vita sua lo mettono a 3 per forza devono averci il playset che fa schifo e probabilmente non lo useranno neanche adesso guardate allora parte adesso da 20 centesimi sto folle che non capisci un cazzo perché può fare un sacco dei soldi primo playset pur 2 euro l'uno no primo nm 2 euro e 50 è un po calato eh io l'ho venduto ieri a molto di più se vuoi fare un playset nm playset nm follia te fai un mutuo 15 euro 5 euro l'uno più spedizione e non è detto neanche siano nm perché so da set vecchi tu considera che questo nm è un good più considerando il market sicuro poi se sei ricco e te vuoi fare il playset in prima non meno di 11 euro e 50 mi sembra al minimo no follia anche perché io non capisco tutto quest'altro sinceramente per macrocosmo posso capire potrei capire la spaccatura fin sure ma macrocosmo tolto il vantaggio che essendo una trappola lo puoi giocare nel turno dell'avversario c'ha il grandissimo svantaggio che il primo effetto che non si calcola nessuno è quello che cala speciale helios come cazzo si chiama ok questo vuol dire che può essere benissimo negato firla lo può negare con ruth callos aspetta spiega allora se apri un attimo il test di ruth callos ok dice che quando l'avversario attiva una carta un effetto che include un effetto che evoca specialmente un mostro puoi negare l'attivazione e distruggerla quindi se tu gli giri macrocosmo e lui c'ha già ruth callos te lo nega senza problemi probabilmente la metà dei giocatori di yuki non conosce questa cosa per loro macrocosmo vanna e basta e questo qui è una bella cosa da tenere in considerazione assolutamente per questo secondo me le carte che ad esempio io su exometro di side a 3 probabilmente è la fissure già ne giocavo una probabilmente a momento in rateo però macro non c'è spazio perché essenzialmente l'hanno messo a 3 per dar fastidio a tier lament no no su quello hanno comunque le out anche perché molti giocatori ho visto adesso da quel poco di testing che ho fatto su dwelling book questi due giorni sì ho visto che molti hanno sostituito l'araldo arancione con l'araldo viola l'araldo viola cosa fa? quello che ha lo stesso identico al centro solo che nega le trappole sì ok nega solo trappole sì non so se è anche magia però penso trappole se non sbaglio sono troppo sgrava controlliamo e quindi siamo praticamente al punto di partenza secondo me l'unica out veramente carina che hanno aggiunto contro tier lament è la fissure sì carta trappola manda quelle un mostro fa dal cimitero nega l'attivazione e distruggi adesso non so se effettivamente diventerà una carta giocata a tutti gli effetti io l'ho visto due persone mi sono capitate contro non so come evolverà adesso il mazzo tier lament io personalmente non la giocherei però non so adesso lo vediamo allora o se propina adesso davanti a noi un meta di full trappole incredibili come se Eldritch diventasse meta e se giocasse solo quello ok va bene altrimenti no ma secondo me ma assolutamente no è un meno assurdo e non giustificato anche perché secondo me tutto quanto si rigira al fatto che c'è stata questa cioè adesso la gente è in delirio post banned è terrorizzati che devono assolutamente trovare un'autac***a a macrocosmo ma non ne ha troppo bisogno tir la mente adesso come adesso lo testeranno qualche giorno secondo me poi va nel dimenticatoio so abbastanza d'accordo oppure anche per carte come Soul Drain che anche quelle gli fanno male eh già quella gli fa più male sì altrimenti però comunque sia sicuramente se proprio va giocato che sai it depends te lo metti quando sei in going second cioè main e non lo mindeccherei mai un mazzo che non gioca trappole cosa ci fai? intanto non credo nessuno ti giochi io parlo del meta attuale ti giochi trappole di main probabilmente roba come Soul Drain macro te li giocano a the side perché becchi un Flanderisa che fai? gli stringi la mano e è a posto eh forse il Flanderisa è l'unico che gioca qualche trappolina però non è l'arraldo che no no te lo salva ecco e adesso te volevo far vedere adesso gli altri macrocosmo perché non è l'unico che costa un patrimonio cioè ovviamente quello da dual terminal è follia 20 euro common no raro poi quello da rimpo che io mi sono preso una scammata incredibile eh? non vorrei dire ma quello ultra è Nemez a 10,70 è playset l'altro 11,50 common ok allora adesso non è proprio una scammata però ne avevo caricati svariati sul market mi scrive un tedesco mi dice no non è che mi scrive mi acquisto ma io gli scrivo guarda per errore la carta è in lingua italiana e non in inglese mi risponde dicendo eh ma secondo le politiche di car market adesso lei lo deve acquistare e poi spedircelo e un attimo vedo sul market in quel momento condizioni playhead no good costava 11,50 euro più la spedizione dal Burundi e un attimo stavo come il meme che tiene il fazzoletto sulla testa e si asciuga il sudore volevo morire chiudo car market penso in un modo per poter passare oltre questa cosa e e dargli l'inculata aveva comprato in posta 4 l'idea era vabbè gli confermo spedisco dico di aver spedito poi quando non gli arriva gli rimborso tutti i soldi e così siamo contenti e riapro car market due ore dopo lui mi risponde mi scrive dicendo oh tranquillo era uno scherzo non ti preoccupare so che capita fa richiesta di annullamento che te lo cancello io un attimo ci ho avuto paura perché ho detto ma se faccio la richiesta e lui rifiuta e lì mi incula proprio e invece dopo ha cancellato dai ti è andata bene è andato sul coglionazzo no ma testa di cazzo che hanno tentato in tutti i modi di farsi spedire le carte ce l'ho avuti grazie a dio alla fine cioè cercando tra le migliaia di carte che ho ne ho trovata una copia e io l'ho spedita però veramente un tipo per un dark law americano che nel senso l'altro che lo vendeva lo vendeva un euro di più o ha rifiutato la richiesta e voleva che lo comprasse io no follia sì ma solo io trovo i stronzi su card market io ancora sto dietro quel tizio che non mi vuole ah no ancora no ridai i soldi per l'artemis mi ha scritto su whatsapp dicendo due settimane che mi hanno bloccato il conto dai annulla sta richiesta ridammi i soldi e io l'annullo eh no perché di qui di là ma non fa culo questo chiasse il pisello affanculo no oh io un account card market l'ho fatto bloccare testa di cazzo perché non voleva rimborsarmi hai detto eh no i danni qua l'hai fatti te ma che l'ho fatto io che mi hai inviato una carta che era pur io ti dico gli do domani come tempo poi riscrivo un'altra volta il supporto gli dico che mi scrivi in privato intimandomi di togliere e ne bloccare l'account mi sembra giusto tanto finché non non accetta di riavere la carta indietro e ridare i soldi e lui non potrà mai averci sbloccato dovrà farsi un altro account vado sembra giusto poi altra carta da controllare Fissure ecco allora queste vendute a 3 euro e 50 l'una no 3 euro e 75 l'una primo playset 12 e 50 ma quant'è aumentate? no no è arrivato qua Fra allora stiamo dicendo che la gente è fuori di testa perché non può vendere la mia Dimensional Fusion comprata a 3 euro e 70 a 12 euro e 75 playset boh è una carta che non credo si giocherà così tanto cioè tanto è sempre l'hype del momento appena sbandano una carta la carta sale ma poi se fa cagare fa cagare guarda quanto godo se ristampano lei e Macrocosmo nel set delle collector che esce a gennaio voi che state lucrando su questa cosa potete? no ci avete tutti la madre putana basta vabbè ma come l'hype di ogni cosa cioè quando è uscito dalla Banned pure che carta aspetta ah cambia l'idea non l'ha giocata nessuno non l'ha giocata nessuno però si vendeva bene a 10 euro io ho un Macrocosmo o Excel venuto a 15 cioè sbagliando capito cioè sta roba qui non dovrebbe accadere perché cioè finché si esce dalla Banned e nessuno gioca non perché dovresti alzare il prezzo a caso cioè nessuno la gioca aspetta pure Macrocosmo chi la giocherà se giocherà spaccatura dimensionale molto più utile rispetto a una trappola ma aspetta tu considera che Macrocosmo e Fisher hanno molte più ristampe di cambia l'idea cambia l'idea era difficile da reperire mille cose l'ultima io ce ne avevo 5 a casa di quando ero piccolo comuni si ma è roba vecchissima che l'ultima ristampa ce l'ha da battle pack 1 se non sbaglio eh vabbè cioè mentre cazzo si ma se è una carta che non si gioca a me non me ne frega cioè dovrebbe sta bassa quello che dico no allora ovviamente 13 euro non c'ha assolutamente senso no più che altro allora posso accettare che la foil costi così tanto ma la common io non posso vendere a 3 euro cioè c'è gente che me la compra play è da 3 euro cioè sono contento di vendervi ma non c'ha senso è lo stesso discorso della roba Toon che prima della ristampa BLS Toon stava a 45 euro cioè non dovrebbe stare né in cielo né in terra che una carta di merda stia a 45 euro solo perché non ha ristampe usciva da un set particolare non c'aveva ristampe da anni è iconica è una colpa dei venditori non è colpa della Konami è il venditore che dice ah lo metto a 45 perché nessuno l'ha messo sotto il 45 si però se la Konami lo fa short print e ne escono pochi si ma non lo vendi e c'è qualcuno perché hai visto pure te che nei gruppi di facebook dove giocano Toon la gente c'è la max rarity c'è la non è c'è stanno 4 gatti in quel gruppo di Toon Duelist ce sei te altri 3 stronzi che vogliono giocare Toon va bene ragazzi tanta cosa che hai legito il mercato c'è poco da faccia eh si oh frate aspetto perché dobbiamo tirare fuori gli altri macrocosmo eh va bene perché oh ne sono usciti 20 dalle prime due scatole ce ne sono altre 15 da controllare un po' prima che uscisse la Banned proprio giusti giusti si si no appena ho visto io ho appena notato che sono stato fortunatissimo mentre stavo riguardando il profilo mio dei card market per segnalare al tizio ho visto che effettivamente io la fissurro mia rara segreta l'ho comprata settimana scorsa per l'OTS e l'ho pagata 98 centesimi NM? eh excellent ah ok vediamo a quanto sta tanto per ride io guarda sono soddisfatto perché le mie NMX le ho vendute a 5 euro anche prima dell'OTS e della Banned quindi top non me ne frega un cazzo la gente me le pagava così cavolo ex 5 euro avete già parlato dei maxi? no ancora no abbiamo parlato però dell'ICS che ci sarà in Francia a febbraio e che quindi? si va prendiamo la macchina si parte tutti e tre insieme si quando è? febbraio cioè torniamo a casa il giorno prima è San Valentino si ne sa dipende io non ci apre nessuno quando me laureo perché potrebbe essere circa no circa dovrebbe essere a febbraio quindi top torniamo e te laureo allora se no riporta tu un cash trilà senza problemi allora adesso vorrei farvi vedere due carte molto belline che sono contento di avere e non stavano un cazzo queste prese tolomeo tolomeo questa presa da Cree che stava a 5 euro ce l'ho ultimate nm bellissima in cambio gli ho dato un loki in prima ultimate che però c'aveva una scritta appena dietro ho capito questa secondo me ci sta a differenza di macro che è un hype immotivato tolomeo è oggettivamente forte adesso che è tornata ci sta che dovevo uscire dalla banner tolomeo si cioè nel senso posso giocare cioè e occupa tanti slot quindi attualmente è un po' strano cioè perché fai tolomeo c'è di avenova e infiniti ok però occupi tre slot ma sono usciti poi ve l'ho girato il video gli ftk cioè due card combo che grazie a tolomeo fa ftk però ti fai saltar il turno all'avversario devastante devastante però non ve dovete becca a entrap permettiamo questo che un nibiru ve fa esplode il terreno è vero magari si ritornerà a giocare adesso che c'è tolomeo ho visto che tolomeo vuole almeno tre comunque due o tre se no cioè il prezzo di questa carta tipo anzi secondo me è troppo basso considerando che è uscita da cross in due versioni ultra e ultimate e non è mai stata reprintata quanto sta ultra? allora ultra stava tipo a 70 centesimi prima adesso adesso attualmente sta a 13 euro e 90 ma a sto punto me la compro ultimate è quello che ti penso pure io 10 euro e più ma sono stupidi cioè e poi voi perché non la potete vedere ma è incredibile è veramente bella se no c'è anche questa carta che è salita di prezzo perché ovviamente tolomeo è stato sbandito che carta? lui costellazione diamante mentre questa carta materiale xyz nessun giocatore può mandare carte dal deck al cimitero e ogni carta che ritorna dal cimitero alla mano è bannata istantaneamente questa forte contro il meta si contro il schizo tier durante ogni turno di ogni giocatore quando un mostro dell'avversario oscurità attiva l'effetto puoi staccare un materiale nega l'effetto e distruggi anche questa stava a 70 centesimi attualmente è una gioca a Saterla attualmente sta a 13 euro sai cosa ci vorrebbe qui? che mamma Konami ci caga un bello structure no ste cazzate delle trap tricks Konami nessuno le vuole infatti io le voglio è bellissime solo te crivo le trap tricks cioè potevano fare structure di qualsiasi altro archetipo più amato no trap tricks comunque ce lo potevamo aspettare perché hanno reprintato la roba in ma cioè non la roba se era in mamma comunque diamond che c'ha una reprint ulti sta a 40 non vorrei dire vabbè le reprinteranno tutte bisogna capire quando se no quali altre carte ci stanno da guardare ah mina mina si mina così tanto secret da mp sta sempre sui 6-7 euro cioè non è scesa però quella gold sta un cazzo adesso non fra non te l'ho mandata ma ho preso ieri un playset di mina così per ride o quanto tipo l'ho valutata 1,50 luna e poi ho tolto un po' io ce l'ho le mie bellissime tre secret sapevo che sarebbe arrivato questo momento davvero ho sempre detto e però ho detto consapevole non le vendo non voglio plassarci perché è una carta che ha reso il gioco rotto e me la voglio tenere cioè nel senso è la prima volta che davvero la konami stampa una carta non divertente una terreno che tu la giochi e finisce il divertimento su questo sono d'accordo e quindi ho detto la tengo volentieri guarda cosa costa ancora guarda quanto costa eh ma perché è la max rarity nel senso ma io l'ho pagata prima che diventasse in hype mina mistica da mp io avrò preso il playset a 5 euro cioè 5,5,5 adesso che è bandita c'è poi pure il plassà cioè io volendolo potrei vendere il playset a 10 e ci avrei comunque plassato ma è ridicola questa carta no cioè io me la devo tenere me la devo tenere guarda a me piace la versione da dane che non sta no anche questa ha mantenuto il suo valore solo quella gold fa schifo a tutti e su questo siamo tutti d'accordo allora se no quella secret è proprio bella eh sì secret è proprio bellina guarda fa proprio la becca l'alba penso che di mp20 è una delle poche carte che si salva beh no mp20 è buono mp21 che fa schifo mp20 c'è savage apollusa mina mistica dragoon no no io parlo a livello di rarità delle carte cioè la rarità così è bella quella di 20 ma di 21 no se no cos'altro hanno toccato in base io proprio per curiosità proprio non lo so puoi far vedere il liri lusca quanto sta perché stava a 5 centesimi suppongo che ancora sta così perché è una comunazza a caso però voglio vedere se la follia ha colpito la follia ha colpito di nuovo è un storno recitante era il terzo allora ecco minimo minimo se ne vuoi uno ce l'ho te lo posso fare 50 centesimi è andata è rimasto è rimasto aspetta ah no è common pensavo fosse super ah no è una comunazza no aspettavo che mi so che salia tipo a 50 centesimi un euro totalmente a caso adesso finalmente l'Irilusca può fare la combo F0 non andando in troppo meno ma scherzi ho fatto qualche mano di prova con K è devastante insomma sono stati stessi due giorni sì sì ma era un problema perché all'epoca quando era forte tu facevi F0 e Seymourg Statua cioè questa è la fine allora non vorrei dire ma Michele se la tira e poi oggi non so quante partite ha perso perché io gli tiravo o Evely oppure Dark Ruler No More vabbè vabbè sei forte su tre partite sei partito tre volte dei Dark Ruler e tre volte per Evely allora no qua dimostra che il mazzo non è performante che c'ha dei difetti com'è Michele ti piace il Toon sono carini è carini no il Toon è veramente carino sì è divertente doppia Comic Hand su F0 e poi ha perso eh raga Comic Hand è la carta la mano del napoletano che ruba tutto è troppo forte questa è la censura ma assolutamente no non l'ho censurata neanche nel video che deve uscire ragazzi ma io vi giuro per ora che prima delle ristampe lo giocavo su Master Duel vi giuro che mettere Dark Ruler spegnere la board e poi fare Comic Hand tipo su un barone oppure baitargli la negazione di barone poi glielo rubi cioè è una cosa che non ha prezzo non ha proprio prezzo ma di che stiamo a parlare quel mazzo nel pratico se un qualsiasi altro deck ci avesse carte con gli effetti delle carte Toon sarebbe sbroccatissimo in che senso gli effetti nel senso una carta come Comic Hand in un qualsiasi mazzo nel senso la mano Lirilusk se controlli due mostri Lirilusk puoi rubare un mostro dell'avversario cioè sarebbe sarebbe troppo forte se io ci avessi una terreno che dice trasforma tecnicamente c'è la Sky Striker è vero tecnicamente c'è la Sky Striker la carta però è fino al fine del turno non è la stessa cosa quella è una carta di equipaggiamento come Snatch Steel più forte è più forte di Snatch però se ti rompono la terreno però in realtà c'hai molti modi per proteggere il terreno anche il segnale i Brotun da cimitero ti protegge dalla distruzione però non dal ban è quello il problema eh il problema è beccarsi Cosmic magnifica no il problema quando ho giocato oggi era Simorg che mi bannava no Simorg Shureg infatti il top sì andando poi a sideare vai primo giochi Skill Drain e riesce cioè l'avversario deve scegliere se buttare giù Skill Drain o Regno Toon sono d'accordo la cosa bella è che BLS si evoca da mano scartando i mostri Toon per arrivare al livello di BLS quindi può giocare benissimo sotto Skill Drain e possono attaccare appena entrano in campo se c'è Skill Drain perché annulla la maledizione dei Toon che non li fa attaccare di primo turno però non possono attaccare direttamente bello però che ne so tu sei sotto Skill Drain l'avversario è letteralmente fermo tu evochi Dragonero Occhi Rossi o con la magia per esempio poi evochi Mago Nero e poi evochi di BLS perché riesce a far scaletta praticamente sempre e c'hai un 2004 un 2005 e un 3000 che attaccano io mi ricordo all'epoca ero contro Eldlitch mi fa Skill Drain e faccio vabbè comic end su Eldlitch divertiamoci comunque se no quale altre carte sono state toccate dalla Banned vediamo Tenky così per i The Secret ma già sta la cortina Tenky Secret se sta poco la compro subito perché è proprio quella che mi serve allora vediamo quella ulti così tanto per 120 euro e se vola poi eh c'è anche quella super da FFSE che è salita che cavolo è quella da figa eh ce n'è una 250 poi è salita a tre primo playset questo è Secret si 5 euro il primo playset sai cos'è che vorrei portare vorrei portare Zodiac adesso che è uscita questa a tre dai Zodiac Zodiac going second con tre Zeus a posto c'ho i tre Zeus c'ho tutto Zeus ce l'ho ce n'ho due io a posto abbiamo cinque Zeus vediamo se worka Zodiac going second senza Drigent lo mettiamo proprio sul titolo si ma nel senso cioè non so se hai visto che me l'hai mandata una una decklist cioè sono alla fine tutte le mie decklist uguali ci metti Dark Lure di main Heavenly di main apposta e poi giochi spaccando tutto cioè senza problemi anzi Heavenly no perché ti va in conflitto con Zeus giochi tre Lightning Storm ma perché? tre Dark Ruler ah ok poi giochi questa qui giochi tanky fai la scaletta Zodiac attacchi e ci fai sopra Zeus passo allora cos'altro hanno toccato poi dalla Banned? hanno messo a tre no quella no no magari guarda se è sceso qualcosa di Tierlamet visto che la Banned doveva essere contro di lui in teoria la Banned doveva essere contro Flander Is e siamo tutti d'accordo che non statua no statua può ancora esistere però siamo d'accordo che Robina doveva andare a uno no doveva quella carta quella puttana doveva andare a uno se banni statua alla fine tutto sommato ah certo non c'ha un EMPEN fascista che entra e fa casino però ho capito gli puoi andare sopra no gli puoi andare sopra EMPEN non è no ma secondo me basta che se proprio gli vuoi fa male basta che gli rimiti la terreno perché tanto è già un mazzo che bricca nel suo si si bricca un botto eh hanno messo c'è stato un botto e bricca in continuazione metaverso hanno messo a tre ah metaverso su per quanto godo che io quando ero venuto alla teta avevo detto guarda alla fine non mi serve ancazza infatti non mi serve un cazzo capito anche qui ci sarà un hype pazzesco sta a 5 euro per una carta che a parte in labyrinth forse ma se no non bravi adesso ci sarà Flanderese che si tira necrovalle dal deck guarda che Flanderese ah io sto contento Flanderese non gli piace tanto necrovalle no vabbè era una battura perché necrovalle è ancora qua io glielavo fatta a a Kree si può giocarci attorno però il fatto di aver qualcosa nel cimitero tipo da poter spostare con Robina no no aspetta è Flanderese che gioca a metaverso e necrovalle beh io ho capito ma nel senso cioè può giocarci ma cosa gli tocca solo io non mi ricordo però gli aveva dato fastidio e mi ricordo che me l'aveva pure tolta come carta non mi ricordo come era andata la partita mi pare cioè sicuramente mi sbaglio però mi pare mi pareva a quanto sta curioso no come si chiama ah si si curioso che ancora devo capire perché è stato toccato ma vabbè è sceso a 1 euro e 30 hanno toccato per nessun motivo allora fa foolish potrebbe essere un sostituto di catenala valval e crea qualche fdk si ma è un link 3 e soprattutto il problema è che magari lo potevi giocare su ishizu tierlaments ma non era così cioè non lo giocava quasi più nessuno non era non serviva per me non serviva però non lo so ti dico esistono più di 10.000 carte e ci sta che possa uscire un fdk con curioso si ma non puoi dire lo faccio non ha mai fatto robe preventive ah no no un list d'emergenza quindi che emergenza è dovevi bannare altro per me oh la konami adesso vuole fare una banne dal mese così stiamo sempre qua a parlare tutti i mesi così magari tutti i passi per la caga sarebbe fantastico perché i prezzi si sono abbassati più di no no gli conviene poi nessuno compierebbe i mazzi forti perché c'è un paura che li toccare vabbè non è che li toccano subito li toccano dopo il primo mese di banna se ti esce una banna al mese stai sempre con l'ansia per di se te sapessi che adesso mese prossimo c'è un'altra banna ti compresti adesso come adesso i shizu tirlo ma infatti le persone dovrebbero giocare più mazzi meme e non giocare quella merda solo per vincere io sarei davvero felice andrei ai tornei tu sempre con fluffal sempre con fluffal chiaro ragazzi questo sarà il prossimo problema non è vero eh lo so tira statua cash trillat tira statua quel mazzo di merda oltre a bloccarmi le zone mi tira anche statua fa sempre la statua del vento no raga la statua del vento deve essere abolita da questo gioco no no uscirà secondo me no Mitch è carina allora anche la statua se non banni la statua banni sto xiz no allora non si può toccare qualsiasi cosa ti veda la statua dai togliamo la statua la statua terra non dà tutti questi problemi anche redox non dà problemi e comunque ancora non me l'hanno ridato infatti però capito è come lo stesso motivo perché hai bannato verde cioè hai bannato una cosa che porta un'altra cosa dovevi bannare l'altra cosa che portava eh no il problema è verde perché allora il problema è questo che porta la statua ma no non è come Seamorg perché Seamorg ti portava sia la statua che l'omni negate Seamorg era troppo era immenso e più c'era pure la combo quella lì col treno che c'era il negate infinito cioè bisogna valutare le carte nel senso verde era il problema perché ti faceva tirare a caso dragoon o enforcer ovviamente se tu tocchi dragoon e enforcer in futuro uscirà roba che farà potrebbe fare la stessa fine a quel punto togli verde verde in un mazzo cioè che ne so se tu giochi preda pianta puro non lo gioca nessuno ok però capito verde era una cosa carina c'è capito la konami dovrebbe smettere di fare verde generico cioè se verde ci fosse stato scritto due mostri preda pianta quel cazzo che veniva giocato no 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 sono d'accordo magari preda pianta era l'unico mazzo che poteva portare a dragoon quanti cazzo di preda pianta ci staranno mai comunque guarda che secondo me a konami ultimamente si sta muovendo in questa direzione da carte sgrave per archetipi scassi che comunque si non potrebbero fare niente con quella cioè per dire guarda mayakashi gli ha dato la trappola più forte del gioco nel pratico si perché mi fai passare è giustissimo non deve che fa carte generiche cioè sono proprio stupide perché le carte generiche rovinano il gioco tutti ne abusano tutti la possono giocare e alla fine fanno la fine del tipo verde cioè o alchifybrax stessa cosa alchifybrax me lo fai che lo puoi tirare solo con due cristron no oppure metti un cristron e un mosto generico si vabbè in generale nessuno comunque lo giocherebbe hai capito invece che hanno fatto l'hanno reso generico così l'hanno dovuto bannare ci sta la roba generica però nel senso non puoi farmi tutto generico se no poi anche quando mi fai uscire i supporti dragonzella per favore allora ti hanno fatto un artwork alternativo goditi quello grazie per l'art proprio ne sentivamo il bisogno l'artwork alternativo mi fa andare a dormire felice cioè io non capisco la konami sa che è un mazzo amato perché hanno messo lo structure su master duel hanno messo tutte le fregnacce su master duel anche l'omino che ti cambia in duello la maid ci hanno messo hanno messo appunto un artwork alternativo perché sanno che le persone yegasa le giapponesi vestite da casalinghe e non mi dai un supporto dammi un supporto sì ma nel senso quanto amato non è amato come sky striker a sky tipo tentano in tutti i modi di di allungargli la vita adesso gli uscirà e poi gli tolgono mine no ma adesso gli uscirà il link luce e faranno un artwork alternativo di raie quanti supporti gli escono quanti supporti sono stati presentati sì un botto non sono tutti buoni però no però sono tanti è bello che supportano così in archetipo se è amato sono contento no no su questo sono d'accordo poi oh gli hanno fatto tutti i link ulti e anche raie gli hanno tolto mina però vabbè però c'hanno fra un po' gli faranno una mina d'archetipo si gioca più con dpe o no no ho visto giocarlo solo con mina io sì sì io ci sono capitato contro un paio di giorni tra ieri e oggi su in giro ancora almeno la gente contro cui ho fatto io non era molto e gli ha tolto una bella marcia in più ecco eh cavolo poteva fa com'è che si chiama o shizuku o yate vabbè quella verde che può attaccare diretto cioè mina quella che attacca diretto può star lì anche 5 turni sì sì finché l'avversario non vede l'autamina cioè probabilmente l'unica out è o una magia d'archetipo oppure è spolverino è spolverino l'unica outamina l'unica outamina è spolverino è spolverino no forse tier c'ha una magia d'archetipo che spacca può essere sono un po' contento che è finita cioè adesso si giocherà con un mindset diverso cioè io adesso spolverino non so se cioè ok che c'è runic però se nerfano anche runic cioè si inizia pensa diversamente a comandare contro un mazzo credo io spolverino l'ho levato è più mina cioè io l'unica cosa che ho lasciato è Fenice il link nel caso qualcuno metti rinacrovalle o mondo zombie ma chi gioca a mondo zombie the main beh decide diciamo ogni ogni video c'è prova dillo questo mondo zombie è terrorizzato è terrorizzato da mondo zombie fra tu non ne hai idea di quante ne ho perse al prossimo local incontra il mazzo zombie poi carinissimo ma gli acaci no ma ho scoperto anche che esiste un mostro che stercia mondo zombie cioè questa è pura follia baci sì ma è pura follia non si può giocare così nel 2022 ma era forte la combo infatti che c'ha Despia con fusione marchiata perché mandi Banshee e ti cerchi mondo zombie cioè mandi Banshee di Branded per fare per prendere mondo zombie e giocare contro Flanderese no no ma sono d'accordo è forte ma chi lo fa deve esplode ora io sto aspettando solo che finisce il meta del cimitero dove tutti ma indecca qualcosa che blocca il cimitero per poter giocare zombie quello è troppo divertente come mazzo poi zombie può giocare a super poli e fonde la roba dell'avversario sì tutto può giocare a super poli la fusione generica cioè generica che vuole mostri zombie sotto mondo zombie sono tutti zombie sì sì doom king che è il doppio negate che ti torna ogni turno oh non vorrei dire ma a parte che mi devono arrivare doom king secret o da pack quindi mi ci steli vuoi ciao uno tiene sì sì da pack o da ristampa pack ok in più ci deve arrivare la roba mayakashi quindi a breve anche la decklist sì ma quella lì finché c'è tutto sto odio per il cimitero ma anche dopo cioè mayakashi è un for fan carino divertente facciamolo tanto se tu prendi uno shifter passi cioè non c'hai modo di devo andare tutto al cimitero tira un gamma sì ma uno shifter una necrovalle un fisso tutto ma indecchi gamma in realtà per fermarlo basta un hash al momento giusto però come tutti i mazzi meme oh ma com'è andato il video non lo sto seguendo adesso ma sta andando bene sì proprio i mazzi merda tipo questo è incredibile oh la gente li vede ed esplode come noi quando vediamo le carte la konami la merda ci piace sì sono d'accordo e niente mi sembra che per la banded list abbiamo già visto tutto ho aperto il video oh 18 like è arrivato cioè due volte in più rispetto a quanta gente l'ha visto 163 oh non è male per un mazzo del cazzo di una decklist che neanche volevi fare uscita 8 ore fa tra l'altro sì ne ha fatte molte di più il rapporto rispetto a a pendolo no abbiamo visto tutto ragazzi adesso bisogna passare al topic fondamentale di questo video che ha dato anche il titolo a tutto il podcast ovvero max torna o no prima di tutto io andrei un attimo a vedere quanto costa secret e poi anche max torna max torna max torna ragazzi 65 euro il playset secret quanto sta il playset secret vabbè tu chiedi troppo 95 non esiste no esiste americano max tornerà purtroppo ma il problema ragazzi non è quello secret che vabbè ci sta come anche quello ultimate io ce l'ho da premium gold quanto costa il playset da premium gold ma troppo per quanto per la tipologia di carta primo playset 15 euro l'uno forte sì sì ma il problema non è questo è quello common quanto costa quello common quello da structure primo playset 12x 1240 nm costa 3 euro in meno di quello gold ragazzi ci rendevo conto è follia sì ma è tanto la konami ha detto ok vi tolgo mina lo structure in ocg ci avrà mina aspetta lo structure traptrix lo structure traptrix ci avrà max c ci potrebbe arrivare e se ci arriva questo qui comune crollerà l'unico che terrà il valore credo che sarà sicuramente quello da store e quello ultimi no ovviamente però prima secondo me non ce lo mette aspetta max su la structure però prima nel caso viene sbannato poi esce il prodotto non succede mai il contrario però quando esce lo structure non era aspetta era uscita una volta la konami che ha fatto una roba così prima lo toccano poi aveva tipo detto guardate uscirà questa carta e poi la sbannata no siamo sicuri sì sì sono sicurissimo tipo Yatagarasu no no aspetta ci sono carte generiche un po' in cui batte il pack tipo cambia l'idea e ste robe qua però non è mai successo che reprint poco dopo la sbanna cioè se ne passano anni e poi non avrebbe senso mettere in uno structure una carta bandita non si anche perché di base l'idea degli struttori è quello che è per avvicinare la gente a giocare i bambini compro questo mazzo però dentro c'è questa carta che non la puoi giocare ok no ma allora parliamo seriamente nel pratico cioè cosa ne pensate di Max C nel senso è infattibile a me non piace come carta cioè non mi non ti piace giocare se torna Max C se ricomincia a giocare l'entrap a rota ma poi c'hai capito non lo so poi dipende anche quando uscirà che meta ci sarà no no nel pratico se guardi meta da adesso fai finta che lo mettessero adesso Max C è immenso tolto Flander che è giallo i mazzi te fanno 10-15 special come niente no la cosa divertente è che tirare Max C non significa bloccare l'avversario nel senso se lui può uticapparti lo farà comunque Max C non gli blocca il turno rispetto a roba come shifter hash gamma bella però adesso si potrà giocare per esempio cioè se uscirà Max C si potrà giocare 3 Max C e un Nibiru così l'avversario vuole evocare che evochi alla fine lo pescherò sto Nibiru cioè io tipo su Master 2 il gioco metto un Nibiru dici per ride caso mai sì perché tanto io se ho Max C in mano lo tiro a me troppe volte mi è capitato che ha continuato evocare ha continuato evocare Nibiru nei denti fine fine del passo cioè da una parte è una carta che non blocca ma dall'altra si dipende un po' che turno sei un momento di silenzio per il tizio che è in mondiali ha perso sotto Max C perché quello con Infernity ha fatto pescare tutto il mazzo questa è da guardare perché non me la ricordo quello è carino è carino l'ho visto fare anche col mazzo ce l'ho visto su YouTube col mazzo sei samurai che lupi con la magia continua fai evocazioni finché l'avversario non finisce il mazzo poi passi vabbè questi sono dei geni che meritano il Nobel vincere così hai capito Max C fa queste cose ecco perché devi giocare Nibiru un Nibiru di main se giochi Max C così non puoi andare mai alla fine a meno che non te lo nega il Nibiru boh nel senso c'ha dei pro e dei contro ovviamente da una parte è fortissima dall'altra non serve a niente cioè avendolo visto giocare avendolo giocato per tanti anni ti dico che secondo me se può giocare cioè può tornare considerando poi che in Giappone hanno Mina bannata e Max C a 1 da noi hanno bannato Mina quindi forse non sta a 1 non sta a 3 no e volevo dire hanno Max C non che sta a 1 però nel senso potrebbe succedere come da loro l'unico caso secondo me nel caso in cui non si possa giocare è se ci lo mettono tipo a 1 quindi è inutile pure che te lo metti all'interno del mazzo se tornasse a 3 per me sarebbe proprio una massa totale io come monocarta la giocherei se me la portano a 1 che scherzi guarda quando l'hanno limitato guarda quando l'hanno limitato perché gioca a 3 hash giochi 2 hash e un Max C sì per carità però non è impattante va molto a culo guarda Mitch quando l'hanno messo a 1 la gente tutti lo maindeccava tutti c'è stato dei periodi in cui si giocava a The Side perché il meta non tirava così tanto i special però si è sempre giocato Max C è una carta carina sì è forte cioè non gli espo di niente cioè ti fa dei più immensi sì o cioè le cose due o ti fai dei più immensi o blocchi il turno all'oppo perché lo torna via pescando è uno shifter aiuta i mazzi aiuta i mazzi meme ma in OCG è sempre stato tipo io lo dico ma non sembro fanatico cioè Dragon Maid in OCG è sempre stato più forte per le carte che c'erano intorno e per il meta in cui stava cioè Max C dà una grossa mano a tanti mazzi che non se lo meritano guardate che Sprite in Giappone era più forte perché c'era Max C perché è di livello 2 sì sì anche questo anche quello è un bel problema la consideravo infatti da noi quando uscì Sprite si pensò fosse più forte di Tier Lamens quando in realtà non fu così quando uscirono i supporti infatti i blu Sprite ad è quanto costa? allora tu considera le terreno sono partite da 50 e sono arrivata a 90 o 100 le terreno le terreno Tier no io parlo di Sprite no Sprite Sprite i blu erano partiti da 80 70 stava all'inizio sì poi sono arrivati a 83 l'uno e poi sono scesi adesso stanno tipo sui 50 60 più 50 ma nessuno vuole giocare quel mazzo ma controlla un attimo secondo me sta pure a 40 mi pare che erano scesi erano crollati non so se eri saliti Sprite blu mamma mia eh ti ho detto primo playset 42 parte da 37 cioè il grafico è crollato sì sì vi voglio dire un attimo se Sprite c'ha qualcosa che costa è blu c'ha blu c'ha blu l'elf che stava ah ok una volta stavano 15 adesso mi sa che pure quello è sceso no no l'elf l'abbiamo visto l'altra volta che è salito sta sui 20 ah è salito anche il link quanto sta il link è crollato dato via 20 no giganti che te lo lanciano il resto guarda è solo questa non c'è nient'altro che costa basta cioè penso che quanto costa il link nuovo ho visto prima sta a 9 euro 9-10 euro guarda nel pratico ti fa il mazzo con 150 euro 100 no un po' di più di 150 però sicuramente sotto i 200 guarda che non penso guarda che tolte queste picche che abbiamo visto adesso il resto è gratis è centesimo guarda che voglio tra fuori dal mucchio tuo fantasia quella che mi ha fatto perdere quale? contro Sprite Runic che fastidio la trappola quella virus qualcosa ah ok quello verde dichiari mostro magia o trappola cioè io ancora mi ricordo in mano avevo Dark Ruler No More Pax Prosperity e e un'altra e una quarta magia cioè in mano avevo quattro magie e un mostro l'avversario giustamente Giral manda via Gigantic perché se l'era pompato e dichiara magia e io concedo perché no no non potevi far più niente cerca il virus cerca il virus voglio vederlo un attimo prima voglio dire un attimo Tier Lamez quanto viene c'è Ruth Callos che vabbè sta a 7 euro poi poi uh Rinert sta a 9 e la ultra sta più della secret poi poi cos'altro c'è la terreno la terreno lo cazzo è perleino cosa è perleino la terreno è come si scrive perleino penso non credo sia no questo è scesa 62 l'1 le 12-18 diciamo il mazzo questo te lo fai con 300 si ma perché giustamente la gente c'ha paura della banner ma 300 per tra virgolette pure di più no io dico la base ovviamente parlo anche la base tir la mente puro senza gli shizu ma guarda gli shizu te li prendi con 70 euro tutto il set anche meno capito guarda ma già incide 70 euro su 300 ma no come si chiama gli shizu c'è Agido Agido sta a 4,50 guarda il grafico come ha fatto stava a 35 un momento di silenzio per chi se ne comprati tutti appena usciti ma si Durso l'ha preso in tedesco l'ha presi proprio quando stavano salendo poi c'è vabbè Mudora non sta niente Keldo non sta niente Kelbeck è l'unico che ha mantenuto un po' il prezzo primo playset sta a 13 euro però parte da 9,50 cioè se a qualcuno interessa ce n'ho un sacco c'ho tipo 2 Keldo e 2 Agido ma cioè Mama praticamente è stato gestito come un ghost from the past si ma il problema di queste carte è che quando ci furono le anteprime fatte dagli influencer dove io non c'ero ovviamente e non sono usciti la gente pensava fossero short print e quindi ovviamente i prezzi erano alti poi più la gente sbustava più ci si rendeva conto che uscivano tanti cioè nel pratico a Polusa sta più di Agido vorrei dire anche lì non sa perché a Polusa non è così utilizzata è una reprint quanto vuoi farla pagare no dico non è così utilizzata è letteralmente un negate dimostro ma è troppo nel meta da adesso non fa poco cioè basta che negli l'effetto è finita si cioè un Dark ma più che in perma è il Dark Ruler il Dark Ruler diventa uno zero il Dark Ruler la manda a zero e poi rimane a zero per sempre non gli rigadagni i punti adesso poi una cosa stupida i link non si possono spostare in difesa quindi tu c'hai uno zero in campo a parte che dopo lo link ci fai cose però cioè rimane lì e niente tornerà al suo momento tornerà si no Apple usa è come Savage Savage quando fu reprintato stava a sette euro otto l'ho venduto a nove tipo io sul market se non de meno e adesso sta a tre stava a trenta cioè F0 F0 non so se è salito ma tornerà cioè bisogna recuperarlo prima che beh io ce l'ho tanto no a giro a giro diventeranno forti di nuovo cioè diciamo i rispettivi boss monster cioè a bollusa o come access code del generico link 4 F0 tutti i mazzi che possono permettersi di giocare Xyz hai F0 ma guarda alla fine qua stiamo parlando di carte generiche se la Konami per un periodo non è repinta questa da 6 euro ti torna 10 access code sali di nuovo e tanto è sempre così diciamo attualmente la Konami ha deciso di reprintare tutto ragazzi tutto 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 anche Barone porca troia no assolutamente diciamo ma l'ho caricato sul market al minimo vabbè quando era stato fatto in led dell'anno scorso cioè no dell'anno scorso quindi vuol dire che minimo 3 anni non veniva reprintato allora questo è l'anno delle reprinte l'anno prossimo non reprinteranno niente però ti devi pensare però è giusto che l'anno prossimo reprintano altro magari l'anno prossimo basta non reprinti niente fai la roba nuova fai staple nuove gustose non può essere che capito cioè la konami che ci guadagna che non reprinta Barone led mica lo vende più è giusto che dice vabbè devo rivendere le carte perfetto faccio un set dove reprinto Barone no ma la cosa strana è che cioè quel set è un set nuovo perché non ci sono esempi passati di una roba del genere il brawl c'era anche l'anno scorso adesso però ma quello che io ti dicevo e tu pensavi che ero un pazzo visionario che la konami farebbe più soldi se mettesse cioè tanto ormai ci siamo roti chi cazzo vede il nuovo mazzo dacce nuovi supporti a mazzi già conosciuti dacce più reprint di carte buone con ciano monostampa no no ma vedrai che più gente torna a giocare e gli piace giocare aspetta questa cosa di fare supporti nuovi non è una cosa nuova di adesso si ma non ne faceva così tanti c'hai capito si però cosa faranno l'anno prossimo è giusto che ci sia stata questa svolta per me ma questa roba è partita dall'inserzione nel gioco dei link da lì in poi hanno fatto tutto di tutto potevano sbizzarrirsi a fare link di qualsiasi archetipo si ma non è necessario cioè e no perché all'epoca guarda Despia Despia non ha bisogno no no però all'epoca c'era anche all'epoca dovevi far cioè hanno detto la cagata l'imitazione nei link quindi un mazzo che non giocava link letteralmente non poteva compete questo è il fatto e da lì in poi hanno iniziato a fare supporti per tutti ma ci sta sono d'accordissimo è molto bella anche sta cosa anzi se mi fanno un nuovo structure dei mech sotto quel punto eh vabbè quello si però da sto punto di vista io sto contento che adesso se ci pensi però rispetto a una volta che quando c'è stato il periodo sincro dovevi giocare per forza il mazzo sincro periodo exis per forza il mazzo exis e così via adesso è molto vario perché ti ritrovi con Flander che non gioca extra c'hai i vari branded e Tirlament che vanno dei fusioni gli exo che continuano a stare tutto quanto sugli exis no no ma Sky Strikers che c'è link c'è exis e link ma questo qui adesso ti puoi buildare l'extra proprio come ti pare e questo è bello nel pratico adesso puoi giocare anche pendolo cosa che non è potuta succedere per anni pendolo cioè dalla nuova master rule che hanno tolto la limitazione dei link da lì la Konami ha detto ok spostiamoci su Rush Duel divertitevi finalmente divertitevi e non vi romperò i coglioni con i link no ma a parte questo loro si sono spostati su Rush Duel e quindi hanno detto bene i link attualmente sono l'ultima meccanica che avete adesso sbizzarritevi a usare tutto quello che vi è stato fornito chissà come sarà la prossima sono d'accordissimo ci sarà una prossima master rule o si rimarrà così e faranno più supporti per adesso per me deve rimanere così non c'è non necessita altre meccaniche sogno le carte rosse però non lo so una nuova meccanica ah una nuova meccanica tipo Uria devi applaudire mentre la metti allora la puoi evocare però di questa cosa parleremo un altro giorno perché questo episodio è durato più di un'ora e cinque io dovrò editarlo e non voglio morire sei anni per editarlo sì sì no perché sarà un episodio da almeno dico 40 minuti ma 39 e 50 la gente non lo guarda però te lo droppa si chiama podcast è un podcast il podcast è per forza lungo vabbè ma non è che deve essere mille ore è colpa mia però devi essere bravo nell'editing a mettere tutti qualcosa che ti appare a schermo perché è 40 minuti che parliamo sotto a pollusa a viso vabbè dopo io ingrandirò la mia schermata se vedrà cioè mi vedrò bene ho anche un bel ragazzo sì bene grazie per essere passati in questo postcard giocati con se potete si chiama podcard è podcard comunque suona molto bene è carino ci ho pensato tutto il pomeriggio qui è tutto al vostro Pegasus di quartiere bello 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 mi piace questa vibe anni 90 comunque ragazzi vi ricordo un paio di cose cosa si fa le marchette codice sconto dopo un'ora prozis k10 dopo un'ora mi sono ricordato di dover fare la marchetta visto che sono una persona sponsorizzata ragazzi vi ricordo come sempre che se vi servono prodotti sigillati o carte singole potete andare trovate il link di magic corner qui sotto in descrizione mentre se volete vendere le vostre carte inoltre ricordo che se vendete carte singole il cappello compra tutto bravissimo anche quello sta qua sotto in descrizione c'è instagram contattami di e mandami la foto pokemon magic yugioh dragon ball anche quello adesso non i calciatori panini tranne i calciatori panini ultimamente anche one piece si quello quello diamo tempo alle persone di comprarle stufarsi e poi vendere regalarle vabbè quelle poi ce le teniamo da parte ce le giochiamo noi un altro paio di maniche tocca tocca iniziare un'altra dipendenza per forza no 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 beh per forza allora fra tu ti sei comprato le carte e diri no Rick e Morty come si chiama vabbè niente non me lo ricordo detto questo the adventure time si bravo e va bene ragazzi il podcast finisce qua spero vi sia piaciuto so che è un po' lungo però colpa l'ora hanno parlato troppo lasciate dislike giusto tanto non li vedo quindi potete anche non lasciarli mi fanno interazioni bella state mesi e noi ci rivediamo domani o settimana prossima il range è quello con un nuovo video ciao a tutti ciao ciao